I cimeli non raccontano la storia, per quella servono i libri e le parole, ma custodiscono le emozioni che i fatti hanno generato e contribuiscono alla divulgazione. Non sono solo oggetti, sono testimonianze e producono cultura. È per questo che i cimeli sono patrimonio dei luoghi, come quell'ala del velivolo col quale Geo Chavez, nel settembre del 1910 compì la trasvolata delle Alpi. È un cimelio che appartiene a Domodossola. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.